Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi nuova live reaction direttamente da San Siro Eccolo qua Oggi Milan-Fiorentina È una delle prime quattro finali che andremo a giocare in questo fine di campionato Speriamo bene ragazzi, dobbiamo fare passi falsi Ad accompagnarmi oggi Alla Manu Sì, vediamo bene, dai cazzo Cosa pensi Manu? È dura, Fiorentina È tosta? È una lettura di cazzo Anche perché abbiamo perso, ricordiamo, all'andata All'andata con il quattro pallone che abbiamo preso Però magari oggi siamo noi allo stadio e portiamo bene Detto questo, andiamo dentro qua allo stadio Ecco i portieri That's it Mike Vai ragazzi Violi sono vai Violi sono vai Violi sono vai Violi sono vai puuu! che confusione! Sara perché diviamo è un'emozione che sale piano piano stringimi forte e salmi più vicino e chi lo salta è il corpo di un mentino no, 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 no no, 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 no Maria Maria Rocco Sandro Don Dani Leo Stel Viani Ale, Ale Ale, Milana, Ale Forza Nota Vincerà il Viani Si parte Si inizia Dai ragazzi, dai Un po' dietro Teo Teo Butta via, butta via questa bolla Bravo, vai Bravo, vai Oh Buone gioco, buone gioco Come sta? Bravo, tira Ziteo Tira Peccato, peccato, peccato Era giusto Con i gioco Ci sta Oh Mamma mia Igor Stava punendo Ci stava punendo Vai Rafa No Ziteo No Cazzo Non l'ha messa Infatti Perché non l'ha messa Era un credo Vengo l'aria Dai, dai, dai Ci siamo Ecco là Sì No Lì Cazzo Non posso Sì Allarga di là Sì Lì No Sono sbagliato Ad entrare entriamo Ma non possiamo sbagliare Da là Di Svon È uno che compra Lungo però Eh sì, sì L'ha gibello Già Di là Su sinistra Eh Via, 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 via Via Oh Che occhio Ste cazzate Che poi le paghiamo Oh Che brutta No Si ha rischiato Si ha rischiato Non è che presilo No Tiraci No Cazzo Primo anello Centro Gira Rafa Robro Ibo No 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 Sempre sto cazzo L'ultimo passaggio Perché si è allevato Come sta Davide Ancora No Porco basso Porco basso Cazzo Il primo tempo Diciamo bene Nel senso Stiamo giocando Stiamo rientrando Il problema è che Devo concretizzare Sempre quello Non ci riusciamo Guardiamo ancora Gli ultimi passaggi Che sono importantissimi Non ci riusciamo Non ci riusciamo Non ci riusciamo Non ci riusciamo Stiamo sicuramente Meglio noi Vediamo il secondo tempo Gini parte Dai gol Dai con sto gol Il cazzo Tira 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 No Rafa No No Ma che cazzo Ma che cazzo Non cancia Non cancia Non cancia No Non cazzo 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 Leo! 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 Dai, ragazzo! Cazzo, era ora! E' un po' poi! Ehi, ehi! Tira! 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 Prima! Prima! Vai, vai! Dai, ragazzo! Buttalo giù! Buttalo giù! Bravo, bravo! Vai! Prego! Sė! 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 3! 1-3! Ehi! 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 Importantissima vittoria, ragazzi. Più 3 punti. Review himvicoto tantissimo al contratto in gara. anche se non capisco il cambio di fuori che diceva prima lì a destra che ha messo Leo adesso a un certo punto mi ha fatto veramente un cazzo grazie sull'occasione che la cortina ha sbagliato e niente ragazzi mi piace, tre punti e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi